Enrico Machiavello è un animatore, artista e illustratore italiano particolarmente noto per gli spot della birra Ceres. Disegnatore e animatore cresce artisticamente e professionalmente alla Scuola del Fumetto di Chiavari e all'Accademia Licustica di Belle Art di Genova. Insieme a Gregorio Giannotta, a Silvano Galif e a Leonardo Montaruli è membro fondatore della Fantomatica, società che fornisce servizi e prodotti grafici applicabili ai vari media, editoria, web e broadcast. Nel 2000 è il premio Anderson per il miglior prodotto multimediale per ragazzi. Allestisce scenografie per i locali e partecipa a mostre sia in Italia che all'estero, ma raggiunge la notorietà con gli spot pubblicitari e col merchandising legati alla birra Ceres. Crea inoltre grafici e animazioni per CD multimediale e siti internet. Da diverse edizioni alla matita ufficiale della mostra internazionale dei cartoonists di Rapallo. Nel 2008 realizza le illustrazioni per la serie di cards Schifido. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.